Sono Guido Carissimo, il proprietario di Carus, Carus Vini, società agricola, e siamo a San Casciano in Val di Pesa, un'azienda di una trentina di ettari di cui 13 vitati. Da subito all'inizio, al 2011, quando abbiamo comprato l'azienda, abbiamo voluto fare un'azienda sostenibile. Pensando ai nostri figli, cosa vuol dire per noi sostenibile? Non solo avere la certificazione biologica che abbiamo, ma anche quella di rendere meno impattante sull'ambiente. Quindi abbiamo messo subito, nel 2011, i pannelli fotovoltaici, abbiamo fatto le pareti ventilate, i tetti ventilati e le pompe di calore. È molto importante, secondo me, che non solo siamo biologici, ma riusciamo anche a portare un contributo all'ambiente nel ridurre l'impatto di tutte le nostre attività. Quello che mi piace molto del mio lavoro è anche vivere nei luoghi dove siamo. Quello che mi fece anche, diciamo, innamorare della cantina che adesso, dal 2011 sono diventato proprietario, è entrare in cantina durante il periodo di vendemmia e sentire l'odore del mostro.